Musica Amiche e amici di Rossini TV benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini oggi abbiamo ospite Marco Pagnetti che è già stato nostro ospite è in passato nella precedente edizione, poi ne parleremo ed è il presidente del comitato, lo leggo, è CSI, Centro Sportivo Italiano, Pesaro Urbino con sede in Fano questo va spiegato perché è stato uno degli argomenti di cui abbiamo parlato nella tua precedente ospitata sei stato con noi il 15 febbraio, come passa il tempo ragazzi, è incredibile è volato letteralmente perché diciamo che l'abbiamo spiegato bene? perché c'è questa cosa del fatto che voi siete comitato provinciale con sede a Fano e di conseguenza avete una sede comunque in una città ma avete capito che bisogna che vi espandete perché naturalmente la responsabilità dell'essere comitato provinciale è una responsabilità importante Sì, come dicevamo innanzitutto, buongiorno a tutti come dicevamo la scorsa volta a febbraio noi siamo storicamente nati a Fano a livello zonale per poi piano piano corparci tutto il comitato provinciale e negli anni abbiamo sviluppato molto l'attività su Fano ma un po' di meno nell'entroterra pesarese perché nell'entroterra magari fanese comunque un po' ci siamo sviluppati e col mio primo mandato, ormai siamo al quinto anno quindi questo è il secondo mandato abbiamo detto che dovevo dare una svolta a questa cosa e quindi abbiamo iniziato ad avere dei rapporti qui con Pesaro con il comune di Pesaro che ringrazio nuovamente per tutto quello che ci ha dato e ci darà perché comunque con l'assessore Emilia Dalladora siamo in contatto e anche con qualche ufficio per organizzare qualche evento abbiamo fatto uno quest'estate, abbiamo fatto i centri stili quindi l'attività la stiamo sviluppando anche nell'entroterra pesarese con tornei di paddle, bisternes eccetera ci stiamo sviluppando come dicevo anche con un ufficio abbiamo un ufficio appunto nella casa delle associazioni dietro alla stazione del treno per intenderci lì abbiamo un nostro ufficio dove teniamo aperto su richiesta quando ci veniamo contattati ci facciamo trovare iniziamo dei rapporti o comunque rafforziamo un po' i rapporti che ci sono sul territorio quando ci siamo visti guardavamo con un certo ottimismo l'arrivo dell'estate in effetti poi l'estate è giustamente arrivata e ci ha dato la possibilità di fare diverse cose adesso siamo di nuovo un po' in difficoltà con la situazione della quale è inutile stare a soffermarsi e a riparlare perché è una situazione che conosciamo tutti però mi piaceva così chiederti di aggiornarci come è andata l'estate cosa avete fatto insomma c'erano grandi progetti sono stati portati avanti sono stati realizzati guarda sì devo dire la verità siete stati di buon auspicio a febbraio perché era il periodo in cui erano i tempi ancora non maturi nel rapporto che avevamo con i comuni di peso con cui abbiamo consolidato verso marzo aprile quindi ripeto siete stati di buon auspicio in cui siamo riusciti a fare un centro estivo a Villa San Martino nel quartiere di Villa San Martino in cui abbiamo avuto una bella adesione di famiglie e di bambini che credo siano stati contenti perché comunque durante il periodo estivo hanno chiesto se c'era un'attività durante l'inverno anche a settembre ci hanno ricontattato e stiamo vedendo insieme anche al comune degli spazi da poter utilizzare non abbiamo voluto spingere troppo sull'acceleratore per semplice fatto anche per una questione di correttezza nei confronti di tante società sportive che sono già qui sul territorio di Pesolo che hanno bisogno di palestre per la propria attività però ne abbiamo chiesto al comune quindi come dicevo prima nella persona dell'assessore allo sport Mila della Dora e il loro ufficio e il suo ufficio scusa abbiamo chiesto degli spazi per poter fare della ginnastica dolce per gli anziani attività motore per i bambini e allo stesso tempo stiamo cercando con alcuni istituti anche di poter fare l'attività motore all'interno delle scuole vedremo quello che verrà fuori perché comunque noi ci siamo ci vogliamo essere ci vorremmo essere anche in futuro quindi ci proviamo e vediamo un po' la cosa più bella che abbiamo sicuramente fatto che è stata un po' diciamo la ciliegina sulla torta è stata l'iniziativa che abbiamo fatto ai campi San Vicenzi o questo a ottobre mi pare in cui abbiamo fatto un villaggio dello sport inerente a un progetto che avevamo con il Ministero del Lavoro e il Centro Sportivo Italiano a livello nazionale in cui abbiamo fatto una giornata intera di gioco di divertimento per i bambini dove anche lì abbiamo avuto circa 400-500 bambini che sono venuti sia la mattina che al pomeriggio sono tornati con le proprie famiglie quindi c'era anche il bar aperto che ringrazio per la disponibilità è stata una giornata veramente bella avevamo un po' di violonità sono sincero avevamo un po' di timore perché sai quando entri in un ambiente nuovo perché comunque Pesola per noi è tra virgolette nuovo per certi punti di vista non sai mai come reagisce il territorio e devo dire la verità reagito bene anche sul rapporto che avevamo fatto con l'amministrazione comunale ma anche sul lavoro che noi avevamo fatto quest'estate con i centri estivi bello molto bella questa cosa ricordiamo che il CSI si occupa di sport e un po' quello che ci eravamo detti per chiarire con un approccio diciamo un po' particolare che mette al centro ci eravamo inventati questa cosa insieme proprio in trasmissione mette al centro il praticante in pratica nello sport abbiamo un po' la tendenza a pensare alla struttura alla sovrastruttura il campionato il torneo è tutto giusto serve tutto e naturalmente è necessario per dargli comunque un'organizzazione però il CSI ha questo obiettivo quello di mettere al centro la persona che lo pratica lo sport in prima persona un'attenzione speciale sì proprio ieri vengo da una o due giorni di Assisi dove è stato il meeting nostro ormai da tantissimi anni ormai da penso più di 70 anni dove ci ritroviamo dove si ritrova tutta l'associazione ad Assisi per vivere due giorni intensi di riflessioni sia a livello comunque spirituale ma anche e soprattutto a livello associativo e in questa occasione purtroppo non è potuto stare aperto a tutti ma è stato aperto solo ai presidenti dei comitati territoriali e regionali e alla direzione tecnica nazionale dove appunto abbiamo riparlato un po' di questo noi abbiamo come centro sportivo abbiamo chiamato la ripartenza cioè abbiamo avuto un momento di stallo e non ci soffermiamo per quale motivo e quello sappiamo tutti e abbiamo cercato di ripartire e quella ripartenza non era a coloro che magari durante la loro vita hanno sempre giocato a pallone sono dei campioni eccetera ma l'abbiamo messa anche quelle persone mi ha colpito molto il nostro presidente nazionale quando Vittorio Bosio quando ha detto ricordiamoci sempre che non dobbiamo pensare a quelle società in cui avevamo già nel nostro nel nostro comitato ma dobbiamo pensare anche a quelle persone o a quelle realtà in cui non facevano sport neanche prima ed è fondamentale questo perché credo nessuna federazione nessun entro in promozione sportiva abbia questa parte sociale così importante così radicata sul territorio il nostro comitato provinciale con l'aiuto anche di quello nazionale ha dato dei piccoli segni sul territorio con l'affiliazione gratuita il tesseramento molto più basso lasciando la parte sicurativa identica a come era prima quindi c'è stato un investimento nazionale e territoriale che probabilmente continueremo a fare anche l'anno nuovo se non addirittura proprio ieri sembrerebbe che dovrebbe arrivare fino al 2023 quindi stagione 2022 2023 quindi per altri due anni quindi un approccio molto importante sul territorio e mettere al centro la persona come ti dicevo prima anche con l'attività che noi facciamo sul territorio noi adesso avremo un progetto che si chiama Easy Sport che vorremmo portare anche su tutto il territorio quindi compreso anche Pesaro in cui daremo la possibilità a quelle famiglie che hanno delle difficoltà economiche che potevano avere prima ma che possono avere anche adesso dovuto a quello che stiamo vivendo col Covid di poter fare dell'attività sportiva all'interno delle nostre società sportive gratuitamente quindi secondo me è un punto molto importante da non sottovalutare cioè in questo momento oltre a tutto quello che può venire dallo Stato oltre a quello che può venire dai comuni oltre a che c'è un endo di promozione sportiva che sul territorio fa questo certo io mi ricordo infatti questa cosa del tesseramento la vado a rileggere perché già mi dicevi che i numeri normali diciamo erano 126 società 12.000 tesserati e eravamo all'epoca a inizio anno e ancora con un futuro molto incerto e già mi segnalavi 86 società come è andata avanti sta cosa? ma guarda noi siamo arrivati dovremmo chiudere l'anno perché noi siamo in chiusura dovremmo chiudere l'anno in crescita con ben 139 società e quasi 13.000 tesserati questo magari uno potrebbe dire oh madonna come fanno questi a fare tutta questa attività io dico attività o affiliazioni anche magari nell'interno di queste società ci sono anche circoli sportivi ci sono palestre quindi anche coloro che non partecipano a un campionato o fanno attività questo c'è perché perché secondo me il lavoro che è stato fatto dal consiglio precedente quello attuale che è stato un po' cambiato è stato fatto molto molto bene sul territorio cioè c'è stato un approccio anche di aiuto quindi anche le famose domande che bisogna fare per avere i contributi per le SD SSD eccetera noi ci siamo stati abbiamo aiutato quando magari erano in difficoltà con i propri commercialisti che magari non sapevano ancora bene tutto cioè c'è stato e a oggi siamo a 90 società questo a 90 società perché perché abbiamo anche investito durante il periodo estivo sull'attività invernale cioè abbiamo detto ragazzi noi ci siamo abbiamo i nostri protocolli riconosciuti dal Ministero della Salute riconosciuti dal Ministero dello Sport riconosciuti da Alconi abbiamo i nostri campionati noi faremo tutto quello che serve per potervi far tornare a vivere come vivevate due anni fa io stesso lo dico perché per me due anni sono stati due anni pesanti come per tutti pesanti a livello lavorativo quel lavoro che faccio che come dicevo anche nella precedente intervista per me fare precedente è volontariato quindi lo faccio a tempo pieno ma è volontariato non è stato facile non fare sport non è stato facile non andare sui campi non è stato facile fare le attività e la prima attività che noi abbiamo rifatto importante in cui era rifare sport è stata quella di Pesano abbiamo voluto dare anche quello quello è stato anche un segno importante per me certo rispetto ai vostri sport tradizionali c'è qualche novità oppure ricordo che voi avete organizzato dei campionati di paddle di tennis beachvolley beach tennis oltre al calcio naturalmente ci sono delle novità qualche sport nuovo al quale vi state approcciando guarda ti direi di no nel senso che abbiamo rafforzato l'attività sportiva che facevamo tradizionale quindi pallavolo calcio basket settore giovanile settore diciamo open e abbiamo stiamo cercando insieme al Cessi Nazionale che si chiama un portale che si chiama Cessi Play per quanto riguarda il tennis e il paddle quindi dove come tu sai meglio di me sono nati i campi da padola funghi in tutta Italia quando fino c'è stato un limite solo nel momento in cui non si trovava il plexiglass bravo esatto il plexiglass e diciamo il ferro l'alluminio lo zincato mancava la possibilità di mettere le pareti trasparenti e in quel momento si era fermato e sembrava si sembrava in stallo non c'era a livello mondiale era sparito questo plexiglass lo avevano comprato tutti i cinesi esatto il problema nostro è sempre quello che compra qualcun altro ripartito quello in effetti i campi siamo ripartiti noi adesso un'altra struttura l'hanno l'hanno inaugurata a Fano presso l'Alma Arena una struttura adesso l'hanno attivata verso Vallefoglia e sono quasi tutti collegati con noi perché comunque hanno visto l'ente comunque serio un ente presente comunque anche se non abbiamo una sede fisica a Pesaro comunque ci siamo anche se non ce l'abbiamo Urbino abbiamo società Vallefoglia un po' dappertutto ci siamo però le attività sono comunque sempre quella adesso ad oggi sono quella tu sai che io sono legato al City Tennis perché mio nipote Davide esatto mio nipote Davide con Francesco Gazzè e il City Tennis è uno dei vostri il City Tennis sì pensavo di averne parlato un'altra volta però il City Tennis si è insieme anche a Gazzè che saluto anzi insieme a lui abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione nato diversi anni fa per dei tornei perché molti anche io stesso ci gioco quando riesco non sono un campione però ci proviamo abbiamo iniziato e non a caso con Francesco stiamo vedendo sul territorio se riusciamo ad avere degli spazi per poter promuovere anche su Pesaro questo bellissimo sport perché comunque è uno sport ne parlavo proprio ad Assisi inerente a questa storia del padol che io sto portando avanti il City Tennis tutti mi hanno detto cos'è? cos'è? aspetta cos'è City Tennis io ho spiegato un po' come funziona gli ho detto guarda è uno sport sicuramente come tutti gli altri che possono far tutti però è uno sport che è facile da approcciarsi ed è facile anche giocarci perché le regole sono molto semplici non a caso quest'estate abbiamo fatto diversi tornei dove hanno partecipato anche dei ragazzini cioè di 14 15 16 anni che magari hanno visto giocare noi adulti al City Tennis ci hanno provato anche col papà alcuni col padre e quindi è uno sport che noi vorremmo propagandare sul territorio e soprattutto su peso Francesco penso quando gli ho detto che forse qualcosa a peso facevamo era andato in visibilio voglio dire perché per lui avere qualcuno Francesco anche tramite noi ha avuto dei contatti su Roma su Vicenza cioè sta cercando anche lui di svilupparlo anche grazie a questa questa rete grossa che ha il centro sportivo italiano a livello nazionale certo certo e adesso visto che è il periodo sport invernali avete mai pensato come approccio allora noi allora sì parli di sci no? di sci diciamo no? allora sì però bisogna vedere un attimo come è messo il catria e il nerone nel senso a livello di struttura io purtroppo scio adesso anche lì sto in piedi però non sono mai andato a sciare lì quindi non so neanche come la struttura però mi piacerebbe mi piacerebbe fare qualcosa noi siamo propensi a tutti anzi faccio un invito che coloro che ci stanno ascoltando ci stanno vedendo se fanno parte di una situazione o qualcosa ci vogliono contattare anche per quegli sport che magari non abbiamo citato questo oggi o nella precedente puntata ci vogliono contattare ci possono contattare e fare sullo sci mi piacerebbe comunque tornando al discorso mi piacerebbe fare qualcosa stiamo puntando dico la verità per l'anno nuovo adesso avremo un incontro la settimana prossima per portare la campestre nazionale qui nella provincia mi hanno chiesto disponibilità a Pesaro per la campestre però purtroppo in quel weekend c'è già un altro evento grosso che è arrivato prima e quindi probabilmente non lo faremo a Pesaro ma ho intenzione con l'amministrazione comunale comunque di portare qualcosa qui a Pesaro comunque la sensazione parlando con te parlando con altri operatori muovendosi guardandosi intorno è che lo sport sia molto vivo lo sport è vivo però anch'io parlando con diverse realtà territoriali anche di federazioni e altro purtroppo i due anni che ci hanno bloccato hanno creato grossi problemi sia adesso a parte la parte economica ma anche la parte fisica io per dirti sono allacciato con alcune realtà territoriali e federali mi dicono che hanno un sacco di infortuni rispetto allo standard normale hanno tanti ragazzi che si fanno male facilmente perché la muscolatura non è più allenata e quindi lo sport è vivo cioè la gente ha voglia di fare sport allora mi correggo la voglia di sport è viva lo sport insomma deve un po' rimettersi in forma sì perché dopo la gente sai un po' quelli che stanno fermi anche le amatoriali stanno fermi ah vado a giocare poi tac spalla haia la spalla haia il ginocchio haia quello haia quella cioè giustamente quando si è aperta la porta uno corre corri su un prato come corri su un prato corri appena la porta ti si è riaperta post covid uno ha corso però è come tutte le cose bisogna andare con i piedi di piombo come si vuol dire perché comunque però la voglia ce n'è tanta ti dico noi ad oggi abbiamo ben tre campionati di calcio a cinque su tutto su tutto il territorio provinciale da Tavernelle a Fano a Pesero nell'entroterra abbiamo tante squadre di Fano di Pesero che hanno partecipato al nostro campionato di calciotto tanta gente che gioca pallavolo tanta gente che fa attività di basket giovanile eccetera cioè la gente ha voglia però come dico sempre bisogna andare piano cioè anche noi siamo ripartiti sicuramente siamo ripartiti anche bene molto bene però dobbiamo andare piano con calma perché comunque non siamo fuori purtroppo ai miei da questa pandemia e quindi noi siamo fuori da tutti i problemi che ci possono essere dietro a tutto ciò certo prima mentre parlavi appunto se c'è qualcuno qualche società eccetera io che sono un entusiasta e che mi butto anche troppo in delle cose che poi dopo non riesco a fare per motivi di tempo ho pensato ai miei trascorsi io sono stato per più di dieci anni a Madonna di Campiglio come animazione per cui lo sci per me è stato un momento importante della vita ed istinto mi viene da dire vengo io ma lasciamo stare questo la domanda a cui volevo arrivare era se qualcuno volesse aiutarvi se volesse mettersi a disposizione se volesse pensare di trovare una forma di collaborazione qual è la procedura cosa deve fare la procedura è semplicissima nel senso basta contattarci tramite l'email che la nostra è peserurbino chiocciola csi meno quindi quello della sottrazione net.it oppure csifano chiocciola gmail.com oppure csipesero chiocciola gmail.com oppure chiamarci ai contatto fisso che abbiamo 0721 801294 oppure andare sul sito del CSI vedere tutte le attività che facciamo tutto quanto ci contattano poi noi prenderemo appuntamento e faremo poi tutto quello cioè ci si può con noi puoi collaborare sia singolarmente quindi anche come persona come operatore quindi come collaboratore operatore sul territorio quindi attività motore per gli anziani attività per i bambini centri estivi arbitri dirigenti eccetera ma anche come società sportiva che ti dici guarda io sono una società sportiva mi piacerebbe fare lo sci di fondo sul Monte Catria che ne dici organizziamo qualcosa insieme perché no parliamone vediamo andiamo a vedere insieme la struttura come ti dicevo prima la campestre verranno dalla nazionale il prossimo weekend a vedere due o tre location che noi avremmo individuato per vedere se sono idonee quindi la stessa cosa è l'opposto cioè noi nel nostro piccolo vediamo un attimo se si può fare qualcosa quindi ci possono contattare poi c'è il nostro sito che è www.cseifano.it come dicevo dove lì proprio trovi tutto quello che ti guardi puoi fare anche una documentazione su quello che facciamo su quello che sto raccontando tanto ho raccontato se è vero o non è vero quindi perché sai la gente a volte diciamo questo 13.000 a notte e serate ma sarà vero basta andare sul sito andate a vedere io non sono dico sempre penso che l'avevo detto anche l'altra volta non racconto frottele o vendo condizionatori in Alaska probabilmente ce la potrei anche fare però non sono quello perché dico io sono molto sono una persona molto concreta un presidente molto concreto e ho un comitato molto concreto che poche parole facciamo i fatti guarda sono sicuro che tutto questo messaggio è arrivato a casa benissimo sono sicuro anche che c'è molta gente che probabilmente non conosceva questa realtà e si sta facendo due ragionamenti perché magari gli verrà voglia in seguito alla nostra chiacchierata di contattarvi il tempo è scaduto per cui abbiamo fatto questa bella escursione nell'ambito degli sport che voi trattate e non solo anche nell'ambito della società perché poi di questo parliamo parliamo di persone poi alla fine e questa è la cosa importante Marco io ti ringrazio è sempre molto piacevole averti qui con noi mi auguro che appunto questa nostra chiacchierata smuova anche qualcuno a casa che capisca che lo sport è importante ma fatto con la giusta progressione per evitare appunto quello di cui ci hai parlato e fin da adesso ti invito una prossima volta guarda io sarò molto contento di venire perché mi trovo veramente bene vi ringrazio per questa possibilità che mi date al mio comitato perché è un'opportunità importante anche di conoscenza di propaganda sul territorio di Pesaro non solo perché so bene fino a dove arrivate e vi faccio i complimenti e ovviamente dico anche che noi oltre a fare dello sport facciamo anche del sociale quindi anche quelle realtà dove ci sono delle difficoltà come adesso abbiamo una società ti rubo proprio un minuto abbiamo una società che ha dei ragazzi una casa di accoglienza di recupero di essi tossicodipendenti giochi d'azzardo eccetera li abbiamo cercati insieme a loro insieme ai loro operatori e alla loro dirigenza abbiamo cercato di integrarli all'interno del territorio quindi stanno partecipando al nostro campionato di calcio a 5 quindi voglio dire che non facciamo solo sport come dicevi te mettiamo al centro l'atleta quindi la persona e mettere al centro la persona vuol dire fare anche del sociale e quindi siamo qua e poi adesso il 22 dicembre faremo gli auguri di Natale come entri in posto sportivo perché abbiamo un consulente ecclesiastico quindi io colgo l'occasione visto che ci siamo per augurare a tutti gli sportivi del centro sportivo e non solo tanti auguri di buon Natale a loro e alle loro famiglie e sicuramente il Cessi c'è ci sarà c'è da 77 anni sul territorio continueranno ad esserci e se ci vogliono conoscere ci vogliono collaborare sanno dove trovarci perfetto non c'è la chiusura migliore grazie ancora grazie a tutti i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici appuntamento a una prossima puntata di Casa Rossini grazie ancora Marco grazie a voi grazie a tutti i nostri